Dopo la fase di test che si è conclusa qualche settimana fa, IT Alert, il sistema di allarme pubblico della protezione civile è entrato in funzione. Informare tempestivamente la popolazione in caso di una situazione di potenziale pericolo è fondamentale. E grazie a IT Alert la protezione civile ha adesso uno strumento in più per arrivare rapidamente e direttamente ai cittadini. Al momento l'operatività riguarda gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso esclusivamente per questi rischi, il collasso di una grande diga, incidenti rilevanti stabilimenti industriali, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica e attività vulcanica nelle aree di Campi Flegrei, Vesuvio e Isola di Vulcano. In caso di incidenti rilevanti stabilimenti industriali seveso, cioè sotto sorveglianza per le materie prime a rischi utilizzate nelle lavorazioni, è previsto il coinvolgimento dei prefetti nell'invio dei messaggi IT Alert. Quattro gli impianti seveso in provincia di Arezzo e sono Chimeta nel comune di Civitella in Valdichiana, Polinta, San Giovanni Valdarno, Arezzo Gas nel comune di Arezzo e Piccini Paola, San Sepolcro. Per quanto riguarda invece le grandi dighe per le quali il sistema è già attivo, quelle presenti nell'Aretino sono La Penna, Levane, San Cipriano, Calcione, Sovara, Montedoglio e Cerventosa. In questo caso sarà il gestore della diga a comunicare al Dipartimento di Protezione Civile la fase di collasso. Il messaggio IT Alert, una volta trasmesso, verrà ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza e abbia il cellulare acceso e agganciato alle celle telefoniche. Il sistema IT Alert allarmerà la popolazione diramando ai telefoni cellulari che sono presenti nell'area coinvolta dall'emergenza messaggi utili per gestire le situazioni critiche.